Musica Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti carissimi amici e carissimi telespettatori di Fano TV Siamo al 7 di gennaio 2016 e dunque ci ritroviamo alle 7.30 in diretta per questa nuova edizione di Occhio ai giornali La rassegna stampa di Fano TV Allora cominciamo dal santo del giorno, oggi è San Raimondo de Panafort Stiamo parlando di un santo del medioevo, pieno medioevo Perché Raimondo nacque verso il 1180 da una nobile famiglia non lontano da Barcellona Il sole è sorto alle 7.41, tramonterà le 16.47 minuti Il tempo previsto per la giornata di oggi, eccolo qua, lo vedete Avremo cielo nuvoloso, molto nuvoloso con la permanenza di stratificazioni basse dal tardo pomeriggio Anche se in realtà questa mattina il cielo è terzo, così come era limpido durante la notte Quindi attenzione alle gelate, soprattutto sulle strade E per chi ci guarda a quest'ora del mattino in diretta alle 7.30 Le strade, molte strade, soprattutto quello dell'entroterra, sono gelate È la prima vera gelata notturna di quest'anno, ma anche dall'anno scorso, insomma, dall'ultimo inverno Quindi attenzione davvero ai freni, alla macchina, andate con molta molta prudenza Domani avremo cielo variabile e poi torna il cielo nuvoloso Con la pioggia le temperature sono in aumento, però niente neve E dunque avremo deboli e locali precipitazioni più probabili sui settori interni e i settori costieri Il fine settimana sarà caratterizzato da precipitazioni più diffuse e anche più intense Naturalmente il maltempo ieri ha rovinato la festa dell'Epifania Tanti erano i bambini che aspettavano di vedere la vecchina Arrivare chi dal cielo, chi dal campanile, chi dalla torre di piazza Insomma, tante le iniziative sparse in giro per la provincia Per le province, non solo quella di Pesaro, ma anche quella di Ancona Allora, vediamo quindi la cronaca di queste giornate Anche se poi, come vedremo e lo facciamo subito con il resto del Carlino di oggi In alcune località, in realtà, questa manifestazione, l'arrivo della Befana c'è stato comunque Bagnati ma irriducibili i fasi della Befana, castagna e cioccolata calda A Fenile di Fano, in aeroporto la pioggia non guasta la festa Le 1300 calze già preparate saranno invece distribuite oggi ai bambini delle scuole Sono le 1300 calze che dovevano essere distribuite ieri in piazza 20 settembre Lì invece è saltato tutto Poi sotto, l'Africa Chiama, Fano risponde, aiutate 20.000 persone 7.000 bambini hanno ricevuto un pasto a scuola 10.000 curati all'USACA Il presidente dell'Africa Chiama, Italo Nannini, dice Quante difficoltà, ma grazie comunque a tutti Sempre su questo argomento Il Corriere Adriatico invece, revocata la grande animazione in piazza 1300 calze date alle scuole Si è concluso, così il programma Il Natale Più Che ha richiamato intorno all'albero migliaia di visitatori Piove, annullata la festa della Befana La pista in erba incompatibile con lo spettacolo previsto L'appello dei piloti per asfaltare la pista in cemento Non solo per la Befana ovviamente I bimbi convenuti non hanno visto l'arrivo della vecchina dal cielo Ma sono stati accolti con dolci e cioccolata Qui naturalmente poi vedete le immagini, le fotografie a corredo Regali distribuiti ai piccoli e anche ai nonni A Fenile invece è un tendone riscaldato Consente balli e giochi, estratti 27 premi della lotteria Ieri però a Fano c'è stato anche un altro incontro Un'altra cosa che non c'entra nulla con la Befana naturalmente Ma che comunque ha riscaldato davvero i cuori I cuori di coloro che erano per esempio in tanti Ad assistere al battesimo del piccolo divan Che è questo bambino qua, lo ricorderete È arrivato con la mamma in un gommone C'è stato ieri il battesimo a Fano 2 Lo vedete in questa bellissima immagine con Don Vincenzo Solazzi Una tenerissima mamma che stringe a sé il suo bambino Nel giorno del suo battesimo con loro appunto il parroco Della chiesa di Santa Famiglia Don Vincenzo ha detto tra l'altro Per noi il volto di Gesù Cristo è in quel bambino Qui sopra poi le immagini Alcuni scatti fotografici della cerimonia Dal terribile viaggio in mare Fino all'ingresso nella comunità cristiana Ma dopo la festa c'è stata anche la rabbia Per le raffiche di multe che sono state elevate dai vigili I vigili che però dicono e si difendono Noi siamo stati chiamati dai residenti Da alcuni residenti che non riuscivano a transitare A detto di Quirico Perché la strada via Guarnieri Che è a doppio senso di marcia È stretta ed era ulteriormente ristretta Da una doppia fila di automobili Che erano appunto state parcheggiate lì In curva, contromano e anche in divieto Adesso sempre tornando sul resto del carino A sanità Perché? Perché Ceriscioli ha fatto un blitz Un blitz a Cagli e non solo a Cagli Anche a Fossombrone Il blitz nel giorno della Befana Un blitz notturno Per verificare di persona le problematiche Di quelle che un tempo erano gli ospedali Volevo vedere, ha detto Ceriscioli Con i miei occhi, i problemi Forse si è esagerato Il Presidente ha portato con sé i dirigenti Dell'Asur, Marini e Di Bernardo Per quanto riguarda i punti nascita Dice il Governatore Il Presidente della Regione Marche Non c'è fretta Ne riparliamo tra un anno con il sistema Assestato Pesaro e Fano C'è molto da lavorare sulla mobilità passiva Cioè di quelli che vanno a curarsi In altri ospedali fuori Regione E che comunque sono un costo per la sanità Secondo il Presidente Il momento dove si può modificare qualche cosa In realtà la politica nazionale e regionale Va dritta Io mi limito Intanto sotto le reazioni Dicono quelli che manifestano Contro questa scelta Della Regione Di convertire questi ospedali Noi non ci fermeremo Confermiamo la manifestazione Il Sindaco Alessandri Dice non basta mezz'ora di colloquio I tagli ci sono tutti Il 13 andiamo ad Ancona Dicevo Io mi limito ad una pagina Ma in realtà anche sul Carlino Sono diverse le pagine che si occupano Questa mattina di questo blitz Ma anche della situazione Che riguarda la sanità provinciale Poi Pesaro invece si sta È stata scossa da un fatto Un fatto di cronaca Che viene riportato oggi Giustamente in evidenza La morte di un clochard Un senza tetto Che è morto nel parco del Miralfiore Non lontano dove è stato Vedete Qui è il posto dove Non lontano dove è stato trovato Il corpo di questo uomo Di 43 anni Si chiamava Rocco Morire soli Al gelo Su una panchina del Miralfiore Riattiva tutti I non doveva succedere Che si dice Quando però purtroppo Le cose sono già accadute Che coinvolgono le istituzioni Le associazioni In parte anche tutti noi C'è qualcuno che adesso dice Per esempio Diamo dei telefonini Che costano poco A basso costo Per questi clochard Per queste persone Che non hanno nulla Così potranno usarli Anche in caso di emergenze Interviene in questo articolo Pesaro povera Squadre di medici di strada Per gli emarginati Questa è la loro richiesta Poi la cronaca invece La trovate a pagina 17 Del resto del Carlino Un pusher Cioè quelli che spacciano la droga In trasferta anconetana Facevano il pieno per le feste Arrestati un ventenne Ed un tunisino 20 dosi Nascoste nelle mutande Negli slip La polizia dorica Rovina i piani Dei due spacciatori Mentre a Cartoceto Un'operazione dei carabinieri Armi e soldi falsi Due conviventi Finiscono in manette Li hanno fermati I militari guidati Dal maresciallo Antonello Pannaccio Che vedete in questa fotografia Qui sotto Ieri mattina Due persone Sono state trovate in possesso Di un numero piuttosto importante Di banconote false Sul giornale Sul giornale Trovate anche Queste belle fotografie Che sono state scattate ieri Mattina in particolare Vedete qui C'è questa In alto a sinistra Urbino Con questi fiocchi giganti di neve Che hanno imbiancato Tutta la splendida città Ducale Poi un altro scenario Di un bosco Probabilmente Ecco vicino a Dapecchio E poi sotto Eccolo qua Vedete un'altra Un'altra vista Probabilmente Non so se è le Cesane O giù di lì Insomma comunque Ecco un'altra panoramica Molto bella Di quella che è lo scenario Che si è presentato ieri Soprattutto questa qui centrale Dopo le Nel pomeriggio Quando il cielo Ha cominciato ad aprirsi I mezzi Sono stati allertati Cioè gli spazzaneve Sono stati allertati Per pulire più rapidamente Le strade Le strade Principali Poi per quanto riguarda La neve Porta anche comunque Economia Fa girare l'economia Con gli impianti sciistici Del Monte Nerone Per esempio Dal rifugio Corsini Il gestore degli impianti Che si chiama Fabrizia Lucchetti Ha detto Sabato, domenica e lunedì Vorremmo aprire Sperando in altre nevicate Valuteremo se aprire o no Nella giornata di venerdì Per adesso L'altezza della neve Si aggira Sul Monte Nerone Intorno ai 10-15 cm E le strade Sono state aperte Cambiamo giornale Andiamo sul Corriere Adriatico Museo Morbidelli Siamo sulla pagina di Pesaro Accordo con la famiglia La struttura sarà aperta Dal pubblico Raccoglie moto storiche Questo museo E pezzi unici Fra i più importanti d'Europa Ha un valore di milioni di euro E diverrà il perno del progetto Con Tavuglia Coriano E Rimini Lega Navale Commissariata Rischio i pontili galleggianti Si arena così L'intervento che dovrebbe vedere La luce Entro l'estate Andiamo Sull'altra pagina Del Corriere Adriatico Anche qui si racconta Del blizze notturno Di Cerisciole Negli ospedali Prima visita Fossombrone Poi Cagli Il presidente era sicura I pronto soccorso Restano aperti 24 ore su 24 Ma la promessa Vale 6 mesi Duro Alessandri Non è stata Una visita positiva Presentarsi con i tecnici Non ha convinto Nessuno E da Fossombrone Apertura solo di urna L'atto di un singolo Il presidente era sicura Quella delibera Non è valida L'attività Non subirà riduzioni Di tempo Poi Funzione a Fossombrone I dubbi Dei sindacati Medici Come vedete Sulle pagine del Corriere Di Fossombrone Quasi tutti i giorni Se non tutti i giorni C'è Una finestra Sulla sanità locale Questo Testimonia come I cittadini Di Fossombrone I Fossombronesi Seguono molto E sono molto Attenti alle vicende Appunto Sanitari Della loro Città Del loro paese Andiamo Sulla pagina Di Fano e Valle del Cesano Da Cartoceto Più attenzione E aiuti Per la formazione Protezione civile Appello alla regione Verso la creazione Di una colonna mobile Marchigiana L'obiettivo è Delineare Un corpo Di professionisti Come necessita La sempre più Complessa Attività Sul Ieri Ha giocato anche C'è C'è Il calcio Quindi Il Fano È sceso in campo A Giulianova E ha vinto 1 a 0 Una Grazie ad una magia Di Borrelli Che fa volare Appunto Il Fano In apertura di ripresa Il gol Che sbanca Giulianova I Granata Accorciano Le distanze Della San Benedettese Poi naturalmente Ci sono Le pagelle E il resoconto Del mister Alessandrini L'allenatore Del Fano Bravi Dice Il mister Alessandrini A stringere I denti In inferiorità Numerica L'approccio È stato giusto Abbiamo Sofferto Poco Apriamo adesso E chiudiamo La segna stampa Il messaggero Ospedale Anche qui Blitz Di Ceriscioli Segnali di apertura Ma la tensione comunque Resta alta I sindacati annunciano La mobilitazione Il presidente In visita A sorpresa Martedì sera A Cagli E a Fossombrone Anche qui vedete L'immagine Il momento In cui il piccolo Divan È stato Battezzato Dal parroco Don Vincenzo Solazzi Poi ieri È stata anche La giornata Storicamente Dedicata All'estrazione Della Lotteria A Pesaro Sono stati venduti Oltre 46 mila Biglietti L'impennata Verso la fortuna Negli ultimi giorni Ad Ancona È stato battuto Il record Poi Qui sotto Un figlio D'arte Axel Rombaldoni Muove Re e regine Da campione Su una scacchiere di vita A 24 anni Un pesarese Ha scritto un libro Nuovo sugli scacchi Che gli ha permesso Di diventare Leader E adesso La pagina Di Fano Santa famiglia Anche qui Tante fotografie Con il momento Del battesimo È sotto Ma Il ride Di multe Alle auto Guasta la festa Di Fano 2 I sanzionati Avevano appena Partecipato Al rito religioso L'assessore Barnesi Che tra l'altro Era presente Insieme al sindaco Seri Alla messa Dice L'assessore Barnesi Dice Sono dispiaciuta Poi Una bombola Ponte Sasso Di Fano Una bombola Ostruisce Un fosso E l'acqua Invade La strada Una vecchia bombola Del gas Ha ostruito Il fosso Della stradale Adriatica Nel tratto A Ponte Sasso All'altezza Dell'incrocio Verso San Costanzo Provocando un allaiamento Di circa Mezza Carreggiata Disagere il rischio Di incidenti Sulla Adriatica Sotto Fratelli d'Italia Punzecchiano L'amministrazione Stasera c'è un incontro Per decidere La linea politica Alle 20.30 C'è il telegiornale Occhio alla notizia Io vi ringrazio Per averci seguito Vi ricordo Che come sempre Le vostre segnalazioni Sono per noi Molto importanti Quindi aspettiamo Le aspettiamo Ai nostri consueti Indirizzi Compreso Whatsapp Al 338 4968250 Buona giornata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti